Ciao, sono Giancarlo. Sono sicuro che molti di voi, passando davanti a una porta, hanno immaginato ma chi potrebbe abitare lì dentro? Quali segreti si possono nascondere? Io l'ho fatto tantissime volte, mi è sempre incuriosito questa cosa. Il libro che oggi vi presento, dal titolo I miei vicini, prende spunto proprio da questo. C'è una bimba di nome Maddalena che sale alle scale della sua brazzina. A un certo punto si ferma davanti a una porta e coglie qualche particolare, in questo caso una puzza, un po' di pesce che non piace infatti. Però lei, con la sua fantasia, immagina che dietro a quella porta ci sia un pirata in pensione che cucina e prepara un bel pranzetto per la sua sirena, la sua amata sirena. Poi prosegue la sua passeggiata e a un certo punto davanti all'altra porta bene, non vuota, ma con la sua immaginazione super pensa che dietro quella porta possa esserci un'intera famiglia di acrobati che volteggiano e stanno tutti insieme preparando il prossimo spettacolo di Natale. E' proprio forte questa nostra amica. E sono certo che molti di voi hanno avuto la stessa idea. Ma io trovo questa porta chi potrebbe esserci? Proviamo a bussare. Eccoci! E quindi buon Natale a voi e ai vostri vicini. Dagli auguri! Ciao! Ciao!